Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi andiamo di nuovo a fare un picchissimo attacco paddle e la main faremo una specie di attacco lampo ovviamente perché come vedrete riusciremo facilmente a conquistare tutti i punti e a vincere la mappa grazie a un bel scamotaggio del nostro capo squadra buona visione guardate che sono già qua allora artiglieria nemica artiglieria nemica sui nostri pezzi non c'è nessuno è male male questo ecco sono qua op ragazzi andiamo a sparare ai fagiani sto buggato caro leggero ok io mi lancio qua sopra sul move per tenere desert rat trench bisogna per forza avere la collina che è qua giù sotto il move sarà tosta però non dico che e soprattutto non siamo l'unica squadra non siamo gli unici che devono fare tutto spero anche non ci porta altrui vabbè come ho lì quindi direi di sì andate pure lì mi fermo solo io qua perché vedo che il commander ha droppato quindi mi assicuro che una gheri venga fatta in mantenente provo a raggiungere la collina copy copy vai tu play track qui carro eccoli eccoli li vedo da qui carro leggero uno giù sul mio ping e ce n'è un altro stai aspettando te per fare la gheri guardate dove sono morto c'è gente lì ok allora io vado a conquistare la collina sotto la collina c'è un guard c'è un tank sulla collina verso sud occhio eh ok ragazzi lì la gheri la fa batta perfetto buttiamoci sulla collina sul mio mu babbo te ormai resta lì dove sei non ti puoi muovere finchè non muori resta lì e combatti ok ti hanno polverizzato il carro guarda la collina si non riusciamo ad attaccare da questo troppo ti hanno polverizzato proprio qualcuno lo vede io per ora mi sto basando su i ping degli altri mamma mia oh difende coi denti raga mi serve un aiutino qui raga che ti serve un'altra cassetta? droppa droppa pure e assistere a un fenomeno molto raro dai ti faccio vedere la gheri di montagna mostrami tutto wow si tiene solo per questo brutta di traverso ma funzionale ma funzionale ok il tank cavolo si è avvicinato me lo pingano qua il ping recentissimo babbo vedi un tank lì sul mio ping? no c'ho il muretto davanti ok ok se mi alzo mi scapocciano bro aia 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 è ottimo qui ci deve venire daniele daniele se vieni qua fai un casino della madonna eh guarda stiamo anche cappando ce l'hai il tempo di venire qui riesci a trovarti un bello spot ti fai di quelle kill ai 300 sento il carro su di me eh vedo tutta la trincina sotto tu eri babbo? eh aspetta eh artiglieria dal cazzo salci sotto guarda mi ha citato l'artiglieria pezza di merda uno morto qui guardate un attimo che non vedo il carro eccolo qua mi dici rifuncare su arfield ah cazzo scarica l'arma dico di metterti qui e fare quello che vuoi c'hai un sacco di posti dove metterti a mirare anche se c'è la nebbia si vede si vedono le sagomette si vedono bene si 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 vede benissimo il tank è al retro poi sono morto sono morto svenuto il tank è andato no no è ancora qui sul mio ping che ci so vai dagli un altro colpo affanculo ma che coglioni merda è questo general ghostling l'ho ucciso mentre che ho colpito il carro e mi ha ucciso farono da qua dietro farono da 40 da 40 dove sono morto io ragazzi c'è gente che si muove lì al mio ping proprio dietro le linee vabbè ci stiamo facendo l'altro punto abbiamo preso OP caldo non ci credo sono caduto per 30 cm e mi sono slogato una caviglia mi devo già curare tronzata i gari sono caldo i gari sono caldo gli piace sparare ma non gli piace fare la logistica ok mi hanno fatto mi hanno fatto attenzione attenzione ok quindi airfield l'hanno presa quelle due persone basta com'è andata non ho capito 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 si 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 mantieni la posizione al momento sto aspettando la garrison di nitroglicerina ok ok ti dico io dove andare vai ragazzi facciamo tutti i redeploy e si va sull'aire ok qui secondo me infine qui la gare è un po' 15 minuti inoltre devi mettere i bisogni i bisogni i bisogni i bisogni Alex, Antonio, fate rideploy è pronto quasi l'Aired va bene li andiamo a trapanare sicuramente adesso saranno tutti concentrati su Airfield ok 25 all'Aired tutti là sono tutti là io mi metto sullo spawn vai andate tutti all'attacco come pazzi ragazzi porca miseria se c'è la baionetta urlato come una scimmia vedo l'artiglieria da qua forse sparano ho più distrutto ho più rotto tirano direzione pinga qui l'ho ucciso questa cosa io non la sopporto come cazzo ho sparato io pure ma ha sparato lui purtroppo non la sopporto mamma mia che spettacolo lo senti? sì e mi ha fatto mi ha fatto mi ha fatto ma sta bombing è che l'ha fatta così brutta bella 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 sento un mg a 190 partita lampo partita lampo bella bella eh beh bisogna farne un'altra ragazzi non si può non farne un'altra che è stata che è stata questa però è stata bella bellissima avevamo 50 persone contro ritendo e scherzando ho colpito 71 volte ne ho uccisi 3 bravo è morto ma chi è che ne ho uccisi 3? beh chi è che ne ho uccisi 3 mi sa ho colpito 71 volte ragazzi siamo la squadra della pace pochi morti tanta efficienza grazie